ben ritrovati a tutti gli amici smart oggi in questo video andremo a vedere come poter recuperare file persi da una chiavetta usb che sia che si tratti di usb o micro sd eccetera comunque da un archivio rimovibile quindi andremo a vedere passo passo come poter recuperare i file non solo con i recenti ma addirittura dei file da quando ad esempio da quando abbiamo preso la chiavetta da nuova fino al punto che vogliamo possiamo recuperare tutti i dati file che si tratti di video foto audio documenti in pdf eccetera comunque qualsiasi file keep in up in emetta qualsiasi tipo si tratti andremo a recuperare tutti questi file quindi una procedura molto semplice andiamo a vedere quindi come si fa prima cosa andiamo andiamo ad aprire questo sito lo troverete sotto in descrizione una volta che siamo qua come vedete è un questo sito ha tanti tool per tantissimi prodotti per recuperare file sbloccare telefoni schermate di blocco pin codice eccetera come possiamo vedere qua ad esempio qui il lock questo lo qui per cui rimuove proprio addirittura l'identità proprio apple come vedete il blocco dello schermo eccetera di ios dell'iphone come vedete qui e qui uno strumento di riparazione di ios professionale addirittura che praticamente se hai problemi ti riporta la normalità sia ios e apple tv e qui si può eliminare in maniera permanente qualsiasi da su tutti i dispositivi ios tutti i dati presenti che hai già cancellato a volte rimangono calche file file residui comunque cartelle sottocartelle con questo tool possiamo andare a eliminare definitivamente qualsiasi cosa abbiamo già eliminato e qui possiamo andare a vedere anche recuperare i dati persi recuperarli proprio dai dispositivi ios itunes icloud eccetera allora dobbiamo andare andiamo prima cosa andiamo su prodotti come vedete qui qua andiamo a andiamo su recuperazione qui dopodiché andiamo quest'operazione qui si può fare sia su windows che su mac quindi come possiamo vedere che possiamo scaricare sia per windows sia per mac perché a mac va a scaricare l'installer per il mac quindi noi andiamo questo è per windows andiamo a cliccarci sopra qui allora prima di iniziare questo prodotto ci dà per la prima volta ci fa vedere come si usa andando recuperarci i file non non va a recuperarli tutti però giusto andiamo ci dimostra andiamo adesso vi dimostro che li recupera infatti perché è un programma veramente molto serio come prova andiamo a scaricare intanto ci va a recuperare ad esempio abbiamo perso 10 file ceva recuperare 3 4 file di quei 10 file giusto per farci vedere che la prova nel senso se vogliamo poi compra che costa costa un niente veramente pochissimi dollari possiamo andare a prenderci questo tool quindi per la prima volta ci fa fare questa operazione andando recuperare i file quindi andiamo a fare una prova per la prima volta quindi andiamo intanto a stallarlo andiamo ad aprire il programma diamo di vari permessi andiamo a installare andiamo ad accettare qua quindi installa attendiamo che si installa dopodiché intanto che si installa io andrei vi faccio vedere la chiavetta che ho inserito questa è la chiavetta da 15 giga 14 9 andiamo ad aprirla io c'ho dentro solamente un file qua come vedete quindi io andrei ad aggiungere altri file giusto per dimostrarvi andiamo ad esempio andiamo ad esempio ad aggiungere due o tre video andiamo ad esempio ad aggiungere ma si bastano due video andiamo vado a inviarli nella chiavetta usb bene una volta che li ha trasferiti andiamo andiamo sulla cartella andiamo su sulla chiavetta come vedete ho aggiunto a parte il file che c'era prima ho aggiunto questi tre video quindi cosa facciamo io intanto vado ad eliminare il tutto vado seleziono vado a eliminare tutto siccome sono sulla chiavetta non ce li porta sul cestino perché solamente se se li eliminiamo dal computer ce li porta sul cestino per poi svuotarlo ma in questo caso vanno eliminati definitivamente come possiamo vedere qua elimina ok perfetto adesso abbiamo una chiavetta vuota quindi chiudiamo qui programma una volta che è installato andiamo ad avviarlo troviamo questo programma se si dà una mossa ok bene qua sta ok e qui ci dà tutti i dischi che abbiamo dischi rimuovibili unità c il volume h e quello che abbiamo come possiamo vedere qua ci dà ci dà proprio ci dà tutto quello che abbiamo sul computer tutti i vari archivi per poter intervenire quindi cosa dobbiamo fare noi andiamo a selezionare la nostra chiavetta in questo caso alla h al nome a qui questo qui come possiamo vedere selezioniamo il volume dopodiché inizia perfetto adesso sta facendo la scansione della chiavetta che abbiamo come abbiamo visto prima è totalmente vuota abbiamo eliminato tutto e qui come possiamo vedere a non ritrovo solamente i file che abbiamo perso in quel momento ma di tutte le precedenti volte che abbiamo perso praticamente abbiamo sicuramente la chiavetta avremo usata riformattata eccetera ci va a ritrovare proprio tutti i file vecchi ma vecchissimi guardate qua sono una marea di file foto come possiamo vedere abbiamo questa chiavetta che io ho da qualche annetto quindi avrò cancellato migliaia e miliardi di cose come possiamo vedere qui documenti vecchi pdf ci va a recuperare tutto da quando praticamente da quando l'abbiamo usata da nuova fino al momento del ricover allora poi qua sulla sinistra come come vediamo abbiamo ci mette lì tutte le cartelle con i vari titoli e dalle foto e video audio documenti come possiamo vedere qua guardate qua tutti i tipi di file png png tif psd abbiamo jpj quindi dall'audio mp3 wave life eccetera come possiamo vedere qua è proprio un archivazione abbiamo email addirittura e poi altro quindi qui prima di procedere dobbiamo qui in alto come possiamo vedere qui scansione approfondita sta scansionando pian piano ci va a recuperare come come possiamo vedere qua guardiamo quanti file possiamo anche fermare mettere in pausa fermare in questo caso fermiamo sennò qua ci mettiamo una settimana quindi completato ok andiamo a selezionare i file ad esempio il vado a recuperare i video che magari selezioniamo qui che ho perso perché ho cancellato prima vado a selezionare ad esempio questi tre recupero cliccare sul recupero dopodiché scegliamo la destinazione qua il mio computer dobbiamo selezionare la destinazione quando mettiamo in questo caso il desktop va bene andiamo a cliccare su ok e qui ci va a recuperare i file che abbiamo cancellato che abbiamo perso bene ecco qua la situazione ci apre in automatico la cartella la destinazione dei file recuperati andiamo ad aprire andiamo ad aprire e qua ci ha recuperato i nostri video che abbiamo perso che abbiamo cancellato perso eccetera come vedete un programma veramente ottimo questa è una versione di prova realtà io saprei anche un modo per crecarlo eccetera ma non sto qua a fare certe robe quindi come vedete un tool veramente molto molto può fare il caso vostro molto interessante come almeno se volete provare questo tool dopodiché non costa molto volendo passare alla versione premium quindi ve lo consiglio casomai se avete domande da fare scrivetemi pure bene ragazzi con questo è tutto spero che il video vi sia stato utile se lo è stato fatemi un bel like pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime ciao ragazzi